buongiorno ragazzi siamo tornati al laghetto fonteviva provincia di varese posto bellissimo qua in mezzo i boschi e le montagne e ci metteremo subito a pescare a trattare iniziamo a pescare a spoon in questa mitica rodeo ml mulinello vanford un filo del 12 nylon del 12 e iniziamo con questo shayla iniziamo un bass primo pezzo è un bass trottare a bass questa volta è una frota ecco il mitico 1,8 grammi sono già arrivate due belle catture prima un bass adesso una trotta usiamo anche il materassino della Valken per abbassarsi e appoggiare le ginocchia non sono così in cattura in cattura in cattura in cattura in cattura cambiamo spoon e andiamo a usare un micro questa volta uno shayla da 0,9 grammi questo colore rosa con una striatura più scura sul fondo marrone e nero e questa parte scura sul retro eccola sono lo shayla 0,9 e ora proveremo a pescare a vertical utilizzando un'esca di casa Rob Lohr il mitico Babel Ace con L'esca con L'esca ed è arrivata una bella trotta con questo Babby Piss e il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info